sguainate immagino le armi perché a tutti gli effetti state entrando in territorio ostile attraversate il cancello in ferro che divide quello che è il cortile della villa da quello che è il brolo vero e proprio oltre il cortile aveva già dato un'occhiata a federico la sera precedente vedete si estende questo pezzo a tutti gli effetti di selva nel senso che è terreno incolto e anche se tutto sommato un occhio esperto potrebbe vedere l'intervento dell'uomo nel senso che gli alberi vengono tagliati probabilmente ogni due tre anni per raccogliere legna le esterpaglie non sono così sviluppate così impenetrabili così alte da impedirvi la vista eccessivamente impedirvi il passo attraverso il brolo quindi come dire è una natura abbastanza docile nelle zone boschive il sottobosco viene abbastanza ripulito non è così incalpestabile o invalicabile come sarebbe se fosse effettivamente selva del tutto abbandonata a se stessa resta di fatto che comunque è un terreno lasciato a sé per quanto vagamente coltivato e la nebbia un po come dire attutisce i vari profili vedete il muro di confine sulla vostra sinistra che è lo stesso che in linea a quello del giardino quindi ce l'avete a pochi passi da voi perdersi dritto davanti a voi nella nebbia come anche alla vostra destra perpendicolare prosegue l'altro muro di delimitazione di questo rettangolo siete effettivamente nella parte principale che ali aveva schizzato sul col gessetto sulla sul legno della tavola la parte principale di bruchiera quindi intorno a voi avete erba arbusti e qua e la vedete che sono segnati del dal calpestio dei sentieri probabilmente sono utilizzati per la maggior parte dagli animali e ogni tanto diciamo qualche cacciatore probabilmente li usa per piazzare trappole o cose del genere quindi vedete proprio che camminando lungo questa erba ogni tanto c'è una linea calpestata in cui l'erba praticamente non non cresce che è un sentiero tracciato da animali in lontananza vedete qua e là qualche albero sparuto che viene su da questa bruchiera e probabilmente oltre vi è stato detto ma adesso non lo vedete a causa della nebbia poi c'è la parte più boschiva più compatta del brolo ok siamo già arrivati o vediamo il fiume il torrente basta camminare diciamo in fronte a voi lasciandovi il cancello alle spalle sapete che prima o poi lo incontrerete da quello che vi ha detto alia divide in due il brolo tagliandolo all'incirca in diagonale quindi qualsiasi direzione in realtà prendiate prima o poi vi troverete a incrociare questo rivolo d'acqua e quando vi avvicinate cominciate a sentire il rumore dell'acqua che scorre cominciate ad affondare con gli stivali nella terra cosa che effettivamente vi indica che non ha argini ben formati in quanto si scioglie in palude intorno al soccorso principale e vedete un rivolo d'acqua che sarà largo all'incirca tre metri e fondo un paio di braccia ok io vorrei cercare di capire se attorno a questa zona vicino al torrente che è abbastanza soffice il terreno è abbastanza soffice ci siano delle tracce di animali non usuali nel senso non conigli caprioli cerpiatti qualsiasi altra cosa si cacci in questa riserva ma eventualmente delle tracce di qualcosa di diverso più grosso strano che mi salti all'occhio visto che sembra essere una zona abbastanza facile qui seguire eventuali tracce visto che il terreno è morbido ok perfetto prova a cercare tracce io gli do una mano prova a dargli una mano dicendogli dove guardare e cose del genere il resto di guardia nel frattempo contanto da avere occhi diretti solo alla riserva intorno anch'io ma solo perché non ho voglia di lavorare boia ho tirato un 10 con gli 4 fantastico yes contato del destino io ho tirato un 9 in tutto ottimo quindi sono 9 più 2 di aiuto da parte di Cosimo quindi 11 battete un 11 perfetto ok vi mettete in cerca di tracce e cominciate a girare intorno alla zona lì del fosso riuscite a trovare varie tracce probabilmente riuscite a inquadrare un po' tutta quanta la fauna che che bastica la zona insomma dai ratti di campagna fino a arrivare ai conigli probabilmente anche qualche predatore piccolo qualche volpe qualche tasso e qualche cinghiale impronte di cinghiale ma le prime che vedete sono sicuramente impronte normali e poi arrivate comunque a identificare a un certo punto grazie alla vostra accurata analisi una pista di tracce che evidentemente normale non è ve lo dice sia l'impronta della zoccoli che è troppo grande per essere quello di un cinghiale comune e sia il passo tra gli zoccoli che sicuramente è di una bestia di dimensioni significative per essere un cinghiale parliamo di un qualcosa lungo all'incirca due metri diciamo da zampa a zampa sul metro e 70 una cosa del genere quindi praticamente un grosso vitello e forse qualcosa di più ok vedete che queste tracce hanno no vedete che appunto probabilmente la domanda che mi stavi facendo queste tracce bazzicano la zona più volte quindi non non sono un'unica fila di tracce ma le ritrovate a pezzi dove si sono preservate ne ritrovate anche comunque di un po' più vecchie e un po' più recente quindi comunque probabilmente un passaggio se non continuo frequente ok va bene guardate guardate vedete queste sono le impronte di qualcosa che sicuramente non è un cinghiale normale vedete qui qui e qui mi fido però purtroppo queste tracce non portano da nessuna parte almeno in questa zona sicuramente c'è qualcosa di non naturale nell'animale che ha lasciato queste impronte come fai a dirlo? beh guardate la distanza fra un impronte e l'altra a meno che non sia una mucca che corre come un cavallo agli zoccoli di un cinghiale non credo che la bestia che ha lasciato queste impronte possa essere considerata naturale mi fido meno male beh adesso cosa facciamo? vogliamo andare a visitare l'altro luogo in cui sono stati trovati con i dismembrati e vedere se riusciamo a trovare le stesse tracce magari è un po' un salto nel buio ma non vedo molte altre alternative se qui c'è stato e il terreno è morbido se ci muoviamo diciamo a spirale qua attorno non dovreste prima o poi incrociare di nuovo una traccia? potrebbe darsi va bene possiamo anche provare così abbiamo ok prima che andate avanti giusto per una cosa che è chiara sicuramente a Bartolomeo però come dire dobbiamo fare il metagame inverso nel senso che probabilmente Bartolomeo conosce la cosa meglio di noi giocatori quindi quello che ti dicevo prima sul fatto di che le bestie ferali tendono a cacciare piuttosto che no essere cacciate come dire sicuramente comincia ad essere una cosa incombente quindi oltre che provare a cercare la bestia Bartolomeo è conscio del fatto che la bestia probabilmente adesso visto che ormai siete nel brolo da un po' all'incirca un quarto d'ora eccetera molto probabilmente vi ha fiutato e sa che siete nel brolo e se non l'ha ancora fatto lo farà a breve detto questo è probabile che inizierà a cercarvi secondo probabilmente le sue voglie, i suoi istinti, i suoi tempi però come dire è probabile che cominci o a seguirvi o a tenervi a distanza o a tutarvi fino probabilmente a attaccare nel momento in cui lei reputa più opportuno diciamo non con l'intelligenza di un pianificatore ma semplicemente con l'istinto di un cacciatore che aspetta il momento in cui la preda è più debole quindi detto questo traduco tutto questo in termini di regolamento è giusto per dargli una mano andare in cerca di questa bestia nel suo terreno è un'impresa drammatica nel senso che che voi riusciate o che non riusciate la troverete perché lei ho capito bisogna vedere che troviamo le nostre condizioni alle sue esattamente, il risultato di questa prova drammatica sarà capire quanto voi riuscite a pianificare il luogo, il tempo, il modo, la vostra posizione, la vostra preparazione le informazioni che avete rispetto al a un certo punto da un cespuglio salta fuori e ti mangia che sarebbe l'andarsene come degli sprovveduti in giro per un picnic la domenica pomeriggio in un brolo pieno di bestie ferali ecco quindi la differenza la farà questo come lo facciamo questa prova? allora sostanzialmente dovete ottenere 5 successi in 5 prove le prove non rappresentano dei round ma rappresentano delle mezz'ore probabilmente ma forse anche di più di attività, di lavoro e cose del genere potete fare quello che volete e usare le abilità che volete basta che me le giustificate quindi che ne so se volete usare conoscenze conoscenze battaglia perché dici cerco un posto in cui pianificare lo scontro e quindi comincio ad andare in cerca di un posto sopraelevato di un posto che gli rallenti il passo eccetera va bene però come dire dovete giustificarmelo quindi potete un po' pescare le abilità che più vi interessano basta che me le giustificate poi tira il gruppo, non tira il singolo quindi una volta che mi dite che vi ponete un obiettivo quindi che ne so trovare una determinata zona, cosa eccetera si decide cosa volete fare mi spiegate come lo fate e a quel punto si fa un tiro per tutti che può essere un tiro collaborativo ok bene andiamo anche qua per ordine direi con un po' di idee giusto per ultima cosa per ogni round di questa prova dovete farmi indipendentemente da quella che è la prova che va a fare scoring quella che vi fa accumulare successi in parallelo una prova o di seguire piste o di sopravvivenza giusto perché questa qui vuol dire sarebbe il vostro tiro contrapposto verso la bestia che vi sta cacciando vuol dire la vostra capacità di fare i vostri interessi nel frattempo prendere tempo rispetto allo scontro cioè è la base del sapermi muovere in modo da non fare danni fatto quello potete costruire cose varie inventive pescate nella vostra abilità liberamente inventate ok ok quindi via di brainstorming decidete un task e ditemi in che modo è utile e come lo volete realizzare forse la più semplice è la mia perché non ho tutto sommato una gran capacità di muovermi nella selva per certi versi però se c'è da rimanere in attesa e cogliere qualcuno un po' in controtempo uscendo quando meno se lo aspetta invece è un po' quello del mio pane quotidiano quindi rimango in mezzo al gruppo magari sporcando il più possibile nella terra del luogo cercando di prendere un po' l'odore cercando sempre una posizione meno evidente meno ovvia rispetto a quelli che giustifico essere buoni punti magari per un agguato in questo modo resto pronto con la lama senza badare a tracce o a quant'altro solo ad assalire con buon tempismo salvando magari la vita di qualcuno possibilmente qualunque cosa dovesse uscire cercando di cacciare noi mentre noi cacciamo lei tutto qui perfetto e quindi l'idea di abilità è potenzialmente futilità ottimo va benissimo quindi cerchi diciamo un posto in copertura per il gruppo e in particolare per te stesso te in copertura al gruppo sostanzialmente e quindi se qualcosa si fa avanti nel gruppo tu tieni per te una buona linea di attacco su questa cosa esatto perfetto quindi lavorate su questo cercate forse una zona che vi permetta di essere un po' al riparo di essere di tenere questo tipo di dinamica nel gruppo quindi va benissimo qualche albero che consenta un appiglio che una mano potrebbe prendere ma che per un cinghiale sarebbe impossibile e cose del genere perfetto andiamo ai tiri quindi mi serve qualcuno e decidete voi chi che fa le prove di o seguire tracce o sopravvivenza giusto per posso farle io se nessun altro ha le abilità perché penso di essere l'unico che ho l'abilità seguire tracce e o sopravvivenza io ho di 4 da seguire tracce però penso che tu ce l'abbia più alto io ho di 6 seguire tracce e sopravvivenza quindi faccio sopravvivenza va bene Antonio certo la sopravvivenza è proprio cacciare quindi è proprio la sua beh direi ottimo sotto un altro bel 9 ottimo quindi su questo Giano costruisci la tua strategia di furtività ok quindi posso andare a fare un roll di furtività esatto beh meraviglioso direi che la serata parte proprio all'istante Benny Benny proprio all'istante subito e un obolo in meno per salvarsi le estremità adesso un doppio un doppiotto tanto da dire no no beh questo statisticamente è via di altro Benny è una cosa che non la c'è quindi ti opponi al destino che ti vuole far fare una figuraccia pessima non è accettabile esatto beh se dentro questo direi che posso chiudere il personaggio e cambiare i rischi qualche adatto a me ok mi prendi la campanella e cominci a suonarla allegramente Giano purtroppo si dimentica che è quello che stava portando la campana e che la stava suonando ritmicamente ogni 10 secondi beh ti hai conto che col doppio 1 ti avrei fatto tipo incrociare che ne so uno stormo di anatre che sarebbero si sarebbero alzate in volo destando l'attenzione praticamente di qualsiasi cosa viva o morta nel raggio di chilometri così diciamo non riesci a ottenere niente ma non fai nemmeno danni globali ecco significativi però ti è costata due oboli cosa che non è costata poco quindi e domani facciamo due conti esattamente su quanto statisticamente forse è difficile esattamente ok poi avanti con le idee possono essere anche cose di gruppo possono essere anche preparativi interazioni con l'ambiente fate voi immaginatevi che avete davanti un bosco acqua una radura ditemi cosa pensate ecco una cosa che personalmente per il mio personaggio potrebbe avere senso e cercare di portare lo scontro in un ambiente in cui mi sia congeniale quindi cercare di portare la bestia nei pressi del laghetto anche in questo caso per avere un'eventuale via di fuga o comunque un modo per impedire la carica della bestia in campo aperto sì non dico che mi metta a costruire una zattera però spostare lo scontro vicino all'acqua potrebbe avere dei vantaggi se pensate lo stesso è una proposta non mi sto proponendo di fare una cosa determinata diciamo che puoi sicuramente cercare ad esempio non una zattera quindi come dire non creare un appoggio nell'acqua ma cercare negli acquitrini una zona più salda magari in modo da essere sì magari appunto circondarmi di zone in cui la bestia può si profondare avere difficoltà a camminare e tenere la mia posizione in un posto invece in cui il terreno è solido ed è più difendibile ottimo e quindi io penso che sia un altro due tiri di sopravvivenza a questo punto per cercare questo posto eventuale sì oppure se hai anche conoscenze navigazione puoi anche usare quello giusto perché visto che è sul come dire sapere dove sono i fondali più alti più bassi inquadrare un po' la zona tutti gli effetti sono comunque conoscenze pratiche che può avere un barca di laguna quindi ok però diciamo come cambia molto quindi uso o navigare non ho conoscenze navigazione se va bene lo stesso uso di solito l'abilità pratica contempla anche la parte di conoscenza perché sennò sarebbe e allora vado di fare 7 ottimo quindi questo ce la fai ed è un successo messo via e se vuoi poi faccio anche il tiro per la overhaul spendo un benni per rifarlo e spendo un benni per rifarlo eh è un benni esageriamo considerando il 17 fai conto che questo giro ti considero due successi ottenuti perché anche col tiro di sopravvivenza hai fatto comunque un risultatone un benni ben spesso quindi avete lavorato per due turni diciamo quindi forse un'oretta un paio d'ore e siete messi abbastanza bene per adesso non siete ancora stati attaccati il che vuol dire che probabilmente le vostre i vostri movimenti eccetera fanno stare la bestia guardinga forse non si fida ad attaccarvi per ora quindi riuscite a prendere tempo ecco io adesso stavolta voglio analizzare visto che abbiamo trovato un posto molto buono per resistere voglio analizzare al meglio sia con i miei occhi che con quelli del falco diciamo cioè naturalmente non che guardi con i suoi occhi però lo mando in giro a controllare i punti da cui potrebbe più facilmente attaccarci il cinghiale o quelli da cui cioè per esempio dico al falco o cerco di fargli capire di sorvolare zone dove c'è particolare confusione o per animali che scappano o per rumori diciamo più forti beh sicuramente diciamo che puoi mettere il falco in guardia nel senso che lo appollai lì su un albero e diciamo nel momento in cui qualcosa grosso come un vitello tenta di caricarvi lui lo vede e la prima cosa che fa si mette in volo e urla quindi come dire sicuramente dall'alto ti dà un buon punto di vista e una buona dominio sulla terra che avete intorno quindi come dire lo metti in posizione di vedetta e questa è una cosa che può tranquillamente fare nel momento in cui vede qualcosa fuori dagli schemi avvisa urla si mette in volo il suo istinto esatto nel senso che va nel suo istinto che è quello di scappare quindi non è niente di difficile da fargli fare perfetto questo ok questo diciamo lo considero automaticamente nel senso che a tutti gli effetti fa parte del tuo vantaggio di avere l'animale come dire essendo già pagato a priori essendo una cosa così naturale non vedo neanche nessun tiro da fare sinceramente quindi questo conta di suo e siamo a tre che altro possiamo fare finché nel frattempo pensate comunque vi faccio notare che adesso che Federico Monterosso ha tolto dalla custodia che copriva la lama della sua lancia che quindi è una specie di custodia in cuoio legata con dei legacci rossi vedete che adesso che la sguainate e che quindi la mostra in tutta quanta la sua magnificenza vedete che Federico pur essendo una guardia come dire di mezza età e abbastanza non così prestante porta veramente un'arma di estrema fattura vedete dei decori vedete una bellezza in quell'arma che raramente avete visto fuori dalle corti Federico a chi l'abbiamo rubata questa bella lancia in verità in verità io ti dico che non ho la minima idea neppure anch'io cioè l'hai trovata in grembo un giorno diciamo che l'ho presa dal grembo di qualcun altro nel senso figurato del termine e se queste sono le guardie che ci dimano poveri noi se prendono cura di voi non ti preoccupare il compito è solo mettere molte portuali niente di più beh speriamo che tu satti usarla anche questa bella lancia beh ci ho accumulato una certa esperienza quello poco ma sicuro c'è sempre qualcuno che non può pagare le multe incontri questo forcone avrei voluto vederti faremo una sfida una volta o un'altra molto volentieri beh nel frattempo è incredibile il contrasto tra il remo rammendato di Bartolomeo e la lancia nobiliare di Federico cos'altro possiamo fare per attirare la bestia pensate da cacciatori cosa fanno i cacciatori delle esche ma la bestia non mi sembra interessata a quello che possiamo offrire bisogno di prede vive salvo potenzialmente appendere Federico ma a meno che qualcuno appunto sono dei due zoppi invece non voglio offrirsi come 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 sacrificio potremmo usare un pollo esco una pistola e miro al falco ehi ehi cosa c'è cosa c'è ci serve un esca finisci male finisci male no a parte che devi ti dare un set per prenderlo tipo un set ah mi adoro no col cacchio un set però si però si però non so quanto quanto possa essere hai ragione è troppo piccolo lo punto sulla testa di Cosimo animale sulla testa di Cosimo è il franco è troppo piccolo a prendere non sono così bravo sei abbastanza certo di riuscire a prendere Cosimo da quella distanza effettivamente eh potremmo provare a catturare un altro animale e a usarlo come esco anche se non so se l'animale è legato al centro del della nostra fra virgolette drappola non puzi anche troppo anche per i cinghiali ferale beh è bene che noi non ci laviamo è bene che noi non ci laviamo tanto tempo però beh non c'era questo rischio no appunto Giano se nel frattempo vuoi ritentare il sopravvivenza no la furtività la furtività una paura tarificante di schiacciare il tasto inelente dopo il doppio uno adesso due volte di sé è perché adesso comunque avete cambiato la zona avete settato il campo e quindi come dire un buon nascondiglio sicuramente sarebbe sarebbe ottimo probabilmente mi sono tolto il mantello rosso con i campanelli perché a quel punto il tiro deve essere giustificato giusto da quello ti rendi conto che eri vestito da babbo natale con tanto di campanellini e pelliccia da bellino io lo aiuto prendendo una badillata di fango con remo e lanciandogliela addosso diciamo che un 6 è più dignitoso ecco ok è onorevole notare che l'altro dal destino c'è comunque omaggiato con il 1 e beh ma mi sembrava chiedere cambia ok diciamo che ci fermiamo qui quindi tanto come dire se non avete altre idee diamo per scontato che questo è il massimo che riuscite a fare non era un riuscire o fallire era più vedere quanto riuscivate a cumulare vantaggio sull'animale e qui diciamo che avete fatto un 4 su 5 che quindi è considerato comunque un ottimo risultato che alla fine la nostra idea che non detta ma che poi sia stata realizzata un po' da tutti era ci mettiamo in un posto e cerchiamo di resistere all'assalto senza neanche cercare di andare a cacciarlo come cioè facciamo le prede preparate tutto questo e basta ma infatti fondamentalmente vi siete limitati a questo però non è detto che sia poco comunque esserci riusciti a aver guadagnato il tempo per come dire costruire un campo e aver portato lo scontro in una zona che riuscite a gestire non è per niente non è per niente male considerate che come dire il massimo quindi arrivare ad esempio al 5 su 5 cominciava a essere voi sorprendete la bestia quindi un rivolgimento totale della cosa adesso invece andiamo invece verso uno sconto preparato da entrambe le parti con più cura sicuramente dal lato vostro quindi vi appostate con più cura di